salve dal telegiornale nazionale di enrico jet stream ecco la sintesi delle notizie di oggi le dichiarazioni shock di erdogan a putin niente amicici se non restituisci la crimea aggiornamenti dal fronte i telegiornali italiani ci sono o ci fanno perdite inaspettate nell'aviazione russa un su 30 un aeroporto è la storia di una baby gang contro un elicottero miotto la russia colpisce una nave cargo nel mar nero le forze droniche ucraine continuano a colpire la russia in profondità mentre aspettano l'autorizzazione a colpire in profondità putin risponde all'eventualità che la russia venga colpita in profondità un'interessante animazione su cosa accadrebbe se la russia la facesse fuori dal secchio la reazione del web e delle televisioni al dibattito fra la harris e trump un paio di novità per le forniture all'ucraina e il nuovo aereo delle frecce tricolori salve telespet scusate amici e amiche apriamo il video di oggi con le dichiarazioni del presidente turco erdogan nei giorni precedenti alla visita di putin in turchia diversi siti fra l'altro riportano che putin abbia chiesto garanzie di scorta nello spazio aereo turco perché diciamo ha un po il timore e non sarebbe bello se i sistemi di difesa nato presenti in turchia scambiassero accidentalmente l'aereo presidenziale russo per un non amico diciamo così le dichiarazioni di erdogan sono comunque state altrettanto interessanti ha rinnovato il supporto all'ucraina nella sua lotta per la sua sovranità nazionale e territoriale e ha messo inoltre il carico da nove sul tavolo dicendo che la crimea dovrebbe ritornare all'ucraina come è richiesto dalle leggi internazionali nonostante la posizione della turchia sia controversa per aver sempre mantenuto relazioni cordiali con la russia bisogna ricordare che è comunque un membro della nato dal 1952 la risposta del cremlino alle dichiarazioni di erdogan sulla crimea è stata non siamo d'accordo in questo video poi vediamo una possibile ricostruzione dell'incontro fra erdogan e putin passiamo ad altre notizie le notizie che arrivano dal fronte i russi continuano a rosicchiare territorio all'ucraina nella loro avanzata verso pokrovsk che sono adesso a sei chilometri dalla città le previsioni di molti analisti parlano che questa città potrebbe diventare uno scenario come è stata d'ifca l'anno scorso per combattimenti urbani che potrebbero proprio trarsi molto a lungo sul lungo periodo tutto l'inverno se non di più mentre spostandoci più a est le forze ucraine tengono le posizioni nella zona liberata di new york qui è da segnalare anche la distruzione della testa di ponte oltre il fiume ottenuta dalla russia nella zona di chasiviar insomma gli ucraini hanno respinto questa questa avanzata russa più a nord invece nella zona di pishkan e russi continuano ad occupare questa zona rurale le forze ucraine rispondono cercando di aiutarli con fuochi da campo e barbecue almeno in quest'area seguendo il fronte verso nord nella zona di voi ciasc non ci sono segnali di cambiamento ma passiamo invece alla regione di kursk in questi due giorni ci sono stati infatti alcune novità premetto che i telegiornali italiani hanno parlato di un contrattacco russo di disfatta imminente delle forze ucraine mostrando fra l'altro queste immagini queste qui bene sappiate che invece queste immagini in realtà mostrano carri armati e fanteria ucraina che oltrepassano la frontiera russa proprio qui quello che sta succedendo in realtà dispetto di quello che dicono i telegiornali italiani è un'altra storia almeno se dobbiamo dare credito ai siti internazionali x telegram e tutti i canali youtube che seguono il conflitto almeno quelli più seri è vero che c'è stata una incursione russa poco a sud di corenovo in un tentativo di chiudere le forze ucraine in una sacca ma nel frattempo le forze ucraine non sono state a guardare avanzando poco a sud ovest in due vettori a ovest di obodi per quello che sembra finalmente il momento opportuno per chiudere il settore che era stato isolato bombardando i ponti sul fiume seim quindi la situazione è in evolversi e dovremo aspettare i prossimi sviluppi per capire meglio cosa sta accadendo dal momento che chiaramente non ci sono rapporti freschi da questi due schieramenti in questi giorni in quest'area passiamo invece alle notizie di aviazione due giorni fa droni ucraini hanno raggiunto la regione di murmask qui per colpire la base di partenza dei pattugliatori marittimi e bombardieri tupolev 95 questa è la base navale principale della flotta nel nord della marina russa via google maps possiamo vedere una decina di su 33 alcuni tupolev 95 è una dozzina di mig 29 e questo è quanto non si hanno rapporti sui danni si parla soltanto di un attacco da parte di due droni che probabilmente sono stati abbattuti prima di colpire notizia invece di un giorno fa un su 30 un su coi 30 del 43esimo gruppo delle forze le russe è stato abbattuto sul mar nero in questa posizione le notizie da fonte ucraina dicono che sia stato colpito da un manpad questi piccoli missili terra aria spalleggiabili o lanciabili da piccole unità cingolate di tipo strela sono missili termici ma le cose interessanti sono due la posizione in cui è è caduto che fa pensare che si sia avvicinato troppo alla costa ucraina dove potrebbe essere stato colpito e poi sia precipitato nel tentativo di rientrare o l'eventualità che sia stato colpito da un missile aria aria tanto che sono circolate voci di un possibile primo abbattimento da parte degli f-16 ucraini ma in questo video che sta circolando la cosa più interessante da notare è il punto di vista dal quale è stato ripreso ce ne sono circa due il primo punto di vista è da sopra le nuvole l'altro sembra da sotto le nuvole c'è da chiedersi a questo punto chi è che sta inquadrando la scena sulle inquadrature al su 30 sembrano esserci almeno due punti di vista la mia idea personale prendetela per quello che vale è che da sopra le nuvole possa essere stato osservato e tracciato da uno dei tanti droni nato che volano sempre in quest'area oppure dal sensore ottico il lightning o il più moderno dell'f-16 che può fare questa cosa tranquillamente anche con un aggancio softlock via radar cioè un aggancio leggero che non mette in allerta la controparte a questo punto il pilota di f-16 può selezionare il sensore ottico e guardare l'aereo agganciato per una modalità molto simile proprio a quello che si vede in queste immagini mentre le immagini che mostrano l'aereo russo da una prospettiva a bassa quota sono termiche e potrebbero venire da un sistema di difesa a terra opposto sulla costa qualcosa del genere o una nave non lo so comunque anche questi possono essere utilizzati dai sistemi di difesa che sono sensori termici a questo punto andiamo avanti un miotto russo questo elicottero qui con questi colori tra l'altro appartenente ad una compagnia privata credo non so se fosse governativo comunque con delle con una livrea commerciale ma si dice che sia stato spesso usato per trasportare militari e forniture questo elicottero è stato distrutto a noi a brusk qui veramente tanto lontano da mosca e dall'ucraina quindi probabilmente queste immagini sono proprio di questo elicottero distrutto parlano proprio di questo qui questo elicottero che si vede via satellite parcheggiato in questo parcheggio l'opera del sabotaggio è stata compiuta da due maranza russi di 13 e 14 anni cosa è successo che qualcuno su telegram ha promesso a questi due ragazzini 50.000 euro in rubli per farlo l'articolo dice che i padri di questi due ragazzi attualmente sono al fronte ora i due ragazzini sono stati arrestati la vedo molto dura per loro detto onestamente ma dato che il più giovane dei coscritti che ho visto essere mandato in ucraina aveva 16 anni spero che per almeno due anni questi due ragazzi saranno al sicuro per modo di dire comunque è stata un'impresa notevole voglio dire per intrufolarsi in una base e incendiare un elicottero notizia di ieri 12 settembre un missile antinave russo ha colpito una nave cargo che trasportava grano nel mar nero complimentoni per la strategia militare caro vladimiro nonostante questo voglio dire essendo stato un fatto estremamente grave al momento non ci sono reazioni significative da parte della nato mentre queste immagini satellitari invece mostrano una nave cargo russa che trasporta sistematicamente missili balistici e droni attraverso le due sponde del mar caspio per dall'iran e per la verso la russia quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle differenze fra il colpire una nave iraniana che trasporta missili balistici e un'altra invece che trasporta grano dall'ucraina in ogni caso notizia di oggi l'unione europea si è dimostrata pronta ad applicare sanzioni contro l'iran a causa proprio di questi missili e droni che continua a fornire alla russia nel frattempo in questi due giorni l'ucraina continua a colpire i depositi di munizioni e di carburante in pieno territorio russo mentre come dire aspetta di poter usare le armi occidentali per colpire in pieno il territorio russo un deposito di munizioni è stato colpito a mariupol molto pesantemente l'intera area è in fiamme e per questo non posso mostrarvi le immagini così è stata colpita una fabbrica di carri armati e di artiglieria a oml è stata colpita ieri mattina continua invece il dibattito eterno sulle concessioni per l'uso delle armi nato in territorio russo l'ucraina ne ha bisogno tipo ne ha bisogno ieri e il dibattito continua voci di corridoio ormai danno per approvate le autorizzazioni ma ancora non sono arrivate ufficialmente molti si interrogano sulla natura etica della questione se questo comporta una cosiddetta escalation davvero odio questo termine usato in modo improprio il mille per cento delle volte che cosa significa escalation ogni giorno quel folle manda migliaia di soldati a morire in una guerra di invasione lancia missili su navi cargo città ospedali centrali elettriche in tutta l'ucraina colpendo le sue città quindi di che escalation si parla di cosa ha paura la nato cioè voglio dire peggio di così cosa può succedere comunque putin è stato intervistato proprio ieri pomeriggio a riguardo il cronista gli ha chiesto cosa ne pensa del possibile uso di missili a lungo raggio nato contro la russia parole sue c'è un tentativo di sostituire il significato delle parole perché non stiamo parlando di dare autorizzazioni o di vieti al regime di kiev perché loro san loro stanno già attaccando il nostro territorio con droni e altri sistemi ma quando si parla di sistemi a lungo raggio di alta precisione costruiti in occidente è tutta un'altra storia apro parentesi la russia da oltre due anni e mezzo che lancia missili da crociera di alta precisione contro le città ucraine e lui continua io ho già parlato di questo e molti esperti lo confermano almeno da noi in occidente le forze ucraine non sono in grado di colpire con precisione a lungo raggio senza l'aiuto dell'occidente e non possono farlo senza l'aiuto dei dati di intelligenza satellitare che gli ucraini usano anche se non sono loro queste informazioni satellitari gli vengono date dall'europa e dagli stati uniti con i loro satelliti buongiorno se ne siamo accorti claro vladimiro che da due anni e mezzo gli ucraini utilizzano i dati satellitari occidentali e continua e questo è un aspetto il secondo è molto più importante forse la chiave di tutto è che solo la nato può usare quei missili l'ucraina non può quindi è solo una questione di termini dice di decidere se le nazioni della nato sono direttamente coinvolte in un conflitto militare o no quindi si tratta solo di una questione di partecipare alla guerra in ucraina direttamente o no e questa partecipazione ovviamente cambia radicalmente la natura del conflitto e questo significherebbe una dichiarazione di guerra da parte degli stati uniti e l'europa quindi in quel caso dice bisogna tenere a mente che noi prenderemo le contromisure appropiate in funzione della minaccia subita bene allora è chiaro che no putin sta facendo il suo solito giochino di minacciare l'occidente però in questi due anni e mezzo di cosa ne sono successe voglio dire di linee rosse ne sono state superate e tante anche diciamo che il migliaio di uomini che la russia perde ogni giorno in questo conflitto non non è che li perde a causa di armi costruite in ucraina pensiamoci cioè i 500 mila 600 mila soldati caduti fino ad oggi non è che sono stati munizioni fucili missili droni costruiti in ucraina tutti questi tutte queste armi venivano dall'europa dall'america dalla russia perché gli ucraini utilizzano anche armi russe dobbiamo ricordarlo e non solo tanto due cose di questo discorso di putin bisogna commentarle che sono molto interessanti la prima che appunto il dettito il dittatore ha definito intanto la sua invasione all'ucraina come una guerra e questo è magnifico dato che per due anni e mezzo era obbligatorio chiamarla operazione militare speciale che tipo in russia venivi arrestato se la chiamavi guerra quindi oggi putin ha cambiato i termini ha utilizzato la parola guerra quindi oggi tutti i russi possono chiamarla così molto interessante poi prima di parlare delle sue solite minacce di ritorsione cerchiamo di capire una cosa perché ha parlato appunto di droni ucraini e dicendo che questi gli ucraini non hanno armi nato per colpire la russia e che non è vero anche i droni che utilizzano non sono loro fondamentalmente ci possono anche assemblarli in ucraina ma non sono di certo ucraini tutti i componenti vengono dalla cina nella stragrande maggioranza dei casi qualche volta dall'europa però sono cinesi ora se consideriamo che da oltre due anni almeno da un anno i su 24 ucraini utilizzano gli storm shadow i mig 29 usano le j dam e r sono tutte armi nato americane europee e utilizzano queste armi per colpire i territori occupati ma anche la russia cioè come pensa come fa per putin a dire una cosa del genere non sa che tipo i ponti su fiume seim i bunker dove c'erano i suoi generali sono saltati a causa di armi europee in questi due anni che differenza fa poi se il missile ha una targhetta made in usa o cina è lo stesso è l'utilizzo che se ne fa che cambia la questione e no è un po quello il discorso non è chi produce e ti dà la scusate la porta non è chi produce e chi ti dà l'arma e come la usi poi il discorso comunque bisogna dire che la russia non si è mai fatta problemi a fornire armi a terroristi guerriglieri in tutto il mondo e anche nelle guerre in corea in vietnam afghanistan angola in ogni parte del mondo nelle guerre di israele chi chi combatteva israele gente con le pietre o avevano mig 21 mig 23 cioè no ci sono sempre state armi russe contro democrazie nazioni o contro la popolazione civile nelle guerre civili quindi questo discorso in sostanza penso che sia una uno dei discorsi più ipocriti che io abbia mai sentito nella storia umana letteralmente soprattutto dopo due anni e mezzo di distruzione sistematica del suo stesso esercito russo dei mezzi dell'aviazione cioè putin crede davvero di poter spaventare la nato a questo punto vorrei proprio vedere cosa accadrebbe se provasse a fare la cosiddetta ritorsione che ha appena annunciato contro la polonia o la danimarca vorrei proprio vedere cosa accadrebbe insomma è un discorso di un bullo che non vuole che nessuno protegga la sua vittima qualcosa del genere insomma grida per tenere le persone che vogliono intervenire ma questo è quanto in ogni caso alla russia oggi non resta molto in termini militari convenzionali si è letteralmente consumata in questa guerra l'unica cosa che può funzionare da deterrente e il nucleare ma anche qui l'utilizzo dei missili a lungo raggio non può scatenare una reazione nucleare sono due due cose diverse il nucleare funziona come deterrente quindi può funzionare finché non lo usi letteralmente è quello il discorso del nucleare se lo usi cambia completamente la questione fra l'altro nessuno impedisce a putin di usarle a prescindere viste visto che fino ad oggi ha sempre detto una cosa ne ha fatto un'altra no nessuno impedisce a putin di impazzire domani a lanciarci un attacco nucleare perché secondo lui è stato colpito il figlio non so di un generale che non doveva essere colpito a maripol o a rostov sul don che territorio russo voglio dire può inventarsi una qualsiasi giustificazione dicendo che l'europa ha usato ha dato l'ucraina un'arma che è stata usata in questo modo nessuno glielo impedisce quello che fa la specie è che neanche khrushchev ai tempi è mai arrivato a tante dichiarazioni così assurde penso che siamo siamo toccando il fondo comunque andando avanti non è chiaro se il presidente della russia o dittatore come vogliamo chiamarlo ci fa o ci è ma è di sicuro che prova a giocare con le paure dell'immaginario collettivo europeo e americano per smuovere un po quelle paure che appunto vedono nella guerra nucleare un modo per distruggere il mondo per assicurarsi la distruzione sottotale e questo realtà è piuttosto discutibile perché dalla guerra fredda in cui questa mutua distruzione era garantita oggi le cose sono un poco cambiate cioè l'occidente proprio per proteggersi da fanatici e dittatori e ciccioni che hanno il bottone rosso ha provveduto a equipaggiarsi con una cosa che si chiama scudo spaziale per cui se un dittatore lanciasse un attacco nucleare chiaramente non potrà lanciare tutti i suoi missili contemporaneamente perché questa è una cosa inverosimile e irrealistico cioè questo può avvenire solo in un videogioco parlandoci chiaro gran parte di queste ondate di missili verrebbero intercettati tracciati dal momento in cui partono e intercettati mentre per la russia la questione sarebbe un pochino diversa diciamo sarebbe una vera e condanna letteralmente la risposta intendo la russia non possiede uno scudo spaziale se si attaccasse per prima ovviamente la nato non potrebbe mai farlo però se questo pazzo un giorno si svegliasse decidesse di lanciare un attacco di questo tipo si attaccasse per prima sarebbe letteralmente annientata lo scudo spaziale europeo e americano entrerebbe in funzione limiterebbe i danni non riuscirebbe a intercettare tutto però limiterebbe moltissimo i danni nel frattempo la risposta in termini di minuti sarebbe terrificante parliamo di 10 minuti 15 minuti in 15 minuti questo sarebbe quello che accadrebbe ve lo mostro in questa animazione la russia non ha una difesa spaziale efficiente lo abbiamo visto l'ucraina l'ha esposta letteralmente ha dimostrato tutto il mondo che le difese aeree russe sono fuffa inesistenti letteralmente quindi questa è un'animazione terribile da far vedere da mostrarvi lo so però io credo fondamentalmente io credo che putin e il suo entourage sia molto ben consapevoli di questo e di quanto sarebbero insignificanti le proprie forze di difesa di fronte a una saturazione missilistica del genere quindi per concludere questo argomento come sempre diciamolo putin fa un gioco di minaccia di minacciare nella speranza che il dibattito scivoli sulla questione ritorsioni piuttosto che sulle autorizzazioni ma come dire in questi due anni e mezzo ha sempre minacciato in questo modo ha sempre detto che se i missili nato colpiranno le zone occupate sarà come colpire la russia se i missili ucraini o missili nato colpissero la russia sarebbe una dichiarazione di guerra continua a fare questi discorsi insomma in ogni caso se le autorizzazioni fossero confermate le distanze dei missili capaci forniti all'ucraina non farebbero particolari differenze al anzi io credo che i droni che la ucraina sta utilizzando siano molto più abbiamo un raggio molto più ampio migliaia si hanno dimostrato di colpire molto molto più in profondità delle capacità dei missili che la nato sta dando all'ucraina ma diciamo sarebbero solo più efficienti questi missili per colpire per esempio le basi di partenza dei missili e dei bombardieri russi che sono responsabili dei continui crimini di guerra che avvengono in ucraina e questo è l'unico aspetto da tenere a mente per questo gli ucraini ne hanno bisogno perché un piccolo drone può fare danni limitati mentre un missile un missile strategico da crociera può colpire in modo molto preciso e in maniera molto più efficiente passiamo avanti qui vi passo in rassegna alcune reazioni al dibattito fra la harris e trump che sono stati meravigliosi il web è letteralmente impazzito in questi due giorni trump si è coperto di ridicolo non sono io a dirlo purtroppo sono gli americani a dirlo ci sono già centinaia migliaia di reazioni ci sono meme trasmissioni televisive che ne parlano insomma per tutti è stato un disastro per lui e tutte queste reazioni sono troppe anche difficile commentarle tutte ma questa per esempio è la reazione di alcuni residenti di springfield quando parla dei famigerati cani e gatti queste sono le persone che vivono a springfield oppure per esempio questa è la reazione in un bar qui stanno guardando il dibattito quando la harris dice che trump da presidente è stato capace di invitare i talebani a camp david cioè camp david è un posto istituzionale con profondi significati etici e morali per l'america quindi poi quando fa una pausa per non scoppiare a ridere per dire ex presidente la gente in sala scoppia a ridere insomma anche se dopo il dibattito trump ha detto che è stato ottimo per lui che è andato benissimo sparando numeri a caso dicendo io ho il 70 per cento delle gente favorevole l'80 per cento qui il 90 per cento lì sono favorevole nei sondaggi ha poi anche dichiarato che la harris ha barato perché conosceva le domande ma scusate ma che domande si aspettava dai cronisti trump tipo cosa ha mangiato stamattina e quale shampoo usa le domande possibili erano quelle no economia guerra extracomunitari queste sono le cose che possono chiederti quando fai ti candidi come presidente comunque oltre poi a se l'è presa anche con i giornalisti con i due giornalisti che facevano da relatori perché secondo lui hanno osato sburgiardare le sue dichiarazioni sui cani di springfield comunque trump diciamolo ha fatto una figura tremenda si è si è auto affossato letteralmente ed è stato piuttosto chiaro che non è più un personaggio in grado di reggere un confronto politico soprattutto contro una donna agguerrita e sveglia come la harris almeno in questo momento tanto che oggi fantastico ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non sarà più disponibile a un dibattito politico del genere e ci credo cioè è chiaro che finché può fare i suoi comizi e convincere i suoi redneck a sostenerlo almeno diciamo può cantarsela e suonarsela da solo come si dice comunque anche in russia ci sono state reazioni alla sua figura tremenda questo per esempio è putin quando trump ha detto che sono amici e che si sono incontrati privatamente poco dopo gli ha mandato tipo un messaggio su whatsapp dicendogli comunque a parte gli scherzi in russia ci sono state vere reazioni a questo affossamento di trump a proposito di questo dibattito dato che è inutile dirlo trump in russia è piuttosto favorito loro dicono che è carismatico e che hanno previsto una sua vittoria schiacciante voglio dire no analogie come hanno previsto una vittoria schiacciante in ucraina immagino definendolo il nostro donald e cose di questo tipo ma appunto dopo la figura tremenda del dibattito è il picco di gradimento che è calato tantissimo nei sondaggi insomma in russia probabilmente gente che lavora si è messo subito ad arginare il problema iniziando a scrivere post e cose del genere in ogni caso uno dei discorsi più deliranti di trump vogliamo ricordarlo è stato che secondo lui victor orban è uno degli uomini più rispettati in europa una persona dura intelligente primo ministro in ungheria che ve lo dico a fare orban ha detto che donald è una persona da rispettare dice che non abbiamo mai avuto problemi quando era presidente ottimo ora fra l'altro questa cosa non la dico io ma l'hanno detta anche molti giornalisti americani in queste ore qualcuno dovrebbe dire a trump che orban in realtà è la persona meno rispettata in europa è un personaggio che rema letteralmente contro le democrazie è una spina nel fianco dei valori europei e del sostegno all'ucraina è un filo putiniano letteralmente fuori controllo se per trump l'europa e orban allora siamo proprio freschi insomma che dire poi cioè se anche la nostra presidente del consiglio non è riuscita a trattenere il disgusto un motivo ci sarà passiamo avanti siamo quasi in conclusione allora secondo il canale military news viene detto che l'ucraina ha espresso interesse per i mezzi dismessi dell'italia ora le ultime notizie che ho trovato a riguardo da parte del ministero della difesa sono dell'anno scorso in cui si parlava di mezzi ausiliari che potevano essere rimessi in efficienza e mandati in ucraina poi tra l'altro sono arrivate anche immagini dal fronte in cui i russi hanno mostrato dei blindati italiani distrutti questo non so se è vero o meno ci sono però queste immagini non ho ulteriori notizie a riguardo mentre altra notizia è che il pentagono ha appena allocato 1,2 miliardi di dollari per la produzione del missile aria aria amram e il classico missile aria aria americano pacchetto di missili che poi verrà venduto a diversi stati fra cui l'ucraina sarà interessante sapere a questo punto quale versione spero non la b dato che in questo momento l'ucraina più che mai ha bisogno proprio delle versioni più moderne come la c e la d per concludere notizia di ieri è stato finalmente deciso quale sarà il sostituto dell'mb 339 per le frecce tricolori non sarà quindi il 345 che sarà prodotto soltanto per la prima fase per le basi che fanno addestramento basico quindi non è in grado di fare avanzato probabilmente passerà ai reparto del 61esimo stormo a galatina se non sbaglio mentre sarà invece per le frecce tricolori sarà il più moderno t 346 o m 346 prodotto dalla leonardo questo aereo è una bella macchina l'ho visto anche dal vivo e posso immaginare che come sarà per il successore del g 91 e il 339 la pattuglia acrobatica nazionale riceverà una specie di versione dedicata del 346 più leggera senza i piloni o modificati per portare le loro taniche i fumi e leggermente meno tecnologico probabilmente sarà senza hud qualcosa del genere insomma probabilmente sarà una versione più leggera della versione base che è un aereo di addestramento avanzato e per appoggio tattico con leggere capacità di attacco al suolo questo aereo rispetto al 339 è qualcosa come due generazioni più avanti con una avionica completamente digitale è un fly by wire molto avanzato almeno rispetto al 339 ha utilizzato dalla pan perché è proprio la versione analogica con l'avionica l'avionica analogica mentre l'attuale 339 cd è semi digitale comunque ecco non sarà il 346 è un aereo diverso completamente rispetto al 339 quindi non credo proprio che sarà capace di fare il cosiddetto volo folle o le scampanate a cui ci hanno abituati i solisti della pattuglia fra l'altro un caro amico istruttore dell'aeronautica militare italiana che ha volato il 346 mi ha detto alcune cose interessanti ha detto che è un aereo intelligente che insomma impedisce di fare errori cioè ha detto ho fatto questo esempio mi ha detto enrico se strattoni i comandi non succede niente perché il computer interpreta quell'impulso come un segnale sbagliato quindi lo ha definito come un aereo a prova di stupidi e questo è in parte vero ma allo stesso tempo impedisce anche certe manovre considerate fuori dai parametri di sicurezza quindi quello che dovremmo aspettarci ma voglio dire tra l'altro è successo anche in passato con i passaggi dal g91 al 339 è che il programma acrobatico delle frecce tricolori cambierà in funzione delle caratteristiche di volo di questo nuovo aereo alcune cose resteranno altre verranno modificate ad hoc e con questo è tutto cari amici fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti non dimenticate di iscrivervi e lasciare un mi piace qui sotto come sempre un abbraccio alla prossima